Calano gli infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna, ma non a Modena e provincia. In base alle statistiche dei primi nove mesi del 2023, in regione si è verificata una diminuzione degli infortuni del 7,55%, passando da 61.686 incidenti sul lavoro nel 2022 a 57.027 casi nel 2023. Gli incidenti immortali in particolare sono scesi da 65 a 58. Eppure in provincia di Modena, purtroppo, le morti bianche sono aumentate di tre unità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In Modena è risultata la provincia con l'incremento maggiore in confronto al 2022, benché un aumento di vittime si sia registrato anche nelle province di Parma, più due, Piacenza e Reggio Emilia, più uno. A parziale giustificazione è il fatto che nel modenese le attività industriali ed edili, in buona parte responsabili degli incidenti sul lavoro, sono più sviluppate che in altre zone della regione. Secondo i sindacati, tuttavia, è fondamentale continuare ad investire sulla prevenzione, cosa che non tutte le aziende fanno, a partire ad esempio dai caschi e del metti protettivi obbligatori nei cantieri, fino all'utilizzo dei sensori nei mezzi come camioni, scavatori e muletti, da inserire pure negli indumenti da lavoro per allertare i lavoratori in caso di rischio di collisione.